La vicepresidente della Regione Toscana e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi ha fatto visita alla filiera che produce un'eccellenza alimentare della nostra Regione, la Finocchiona. Saccardi è stata in Val di Chiana, a Cortona e poi a Monte San Savino, in un percorso che parte dal lavoro delle api sulle piante di Finocchietto e arriva al salumificio del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP. Un'attenzione alla biodiversità, alla conservazione del territorio, anche alla riscoperta di certi valori e tradizioni, anche alla valorizzazione di metodi di cultura tradizionali che facciano a meno di fitofarmaci o di interventi di altro genere. D'altra parte la scelta che noi abbiamo fatto, anche nella nostra Regione, seguendo le indicazioni che ci arrivano dall'Europa, è quella di un'agricoltura sempre più attenta al rispetto per l'ambiente, un'agricoltura che sia non elemento di inquinamento ma elemento di lotta al cambiamento climatico. Il Consorzio di tutela ha promosso un progetto di prolificazione delle api con la donazione di tre arnie, con api impollinatrici per favorire la produzione naturale del finocchietto e al tempo stesso il lavoro delle api, sentinelle dell'ambiente. Nel 2020 la Finocchiona non ha accusato la crisi economica conseguente alla pandemia di Covid-19. Esportiamo in tutta Europa, in Giappone, in comunque gran parte delle nazioni, stiamo comunque tramite anche l'assessore cercando di esportare anche negli Stati Uniti, che per noi sarebbe un mercato davvero importante. I numeri sono numeri importanti perché si parla di quasi 2 milioni di chili di prodotto insaccato, quindi sono numeri veramente importanti che tutte le aziende, medio, piccole del nostro territorio toscano, sapientemente tutti i giorni portano avanti. Insomma, dal finocchietto alla finocchiona, grazie al lavoro delle api, le prime tracce dell'esistenza in Toscana di questo salume risalgono al Medioevo, una tradizione antichissima. La ricetta della finocchiona è comunque una ricetta molto spesso di famiglia, qualcosa che si tramanda negli anni, nei secoli per qualcuno. E quindi ognuno ha le sue peculiarità, c'è chi usa solo il seme, chi usa il fiore, chi usa chi mette il vino e non lo mette. Ci sono tanti piccoli dettagli e abbiamo voluto essere rispettosi di tutte le storie, anche perché non volevamo stravolgere il prodotto, volevamo portarlo avanti, portarlo avanti con più garanzie, con più protezione, anche perché la finocchiona è proprio un prodotto toscano. Il consorzio permette dunque di preservare e valorizzare un prodotto di qualità della Toscana. Grazie a tutti.